Avete visto il film La leggenda del pianista sull'oceano, quando parla che lui non vuole scendere sulla terra perché lì è illimitato, allora lui non sa fare un cazzo perché questa è una nave in questo senso, nel senso che lì dove sta lui, lui è sul mondo, però in questo mondo chiuso le possibilità sono infinite, mentre in un mondo infinito le possibilità sono poche. Perfetto, non basta, ho sparato troppe saggezze.